Ben trovati cari amici di Rangue Sport, un caro saluto da Onofre Colucci. Si parla di calzature innovative, parliamo oggi di un nuovo modello in casa Oka One One. Parliamo della Elevon, di seconda generazione, scarpa ammortizzata reattiva con caratteristiche molto tecniche che ci proiettano in un mondo quello delle prestazioni importanti. Sì, perché la Oka Elevon 2 ha uno strato superiore dell'intersuola a contatto della tomaia in ProFly, che è una mescola intelligente a doppia densità, più morbida sul calcagno per un appoggio sicuramente più ammortizzato e una schiuma a maggior densità sull'avampiede per incentivare la propulsione. Il risultato è un appoggio morbido e uno stacco del piede più riattivo con un atterraggio altrettanto più comodo. Il tallone più esteso fornisce maggior ammortizzazione e consente di indossare la scarpa in maniera molto più agevole. L'active foot frame che avvolge il calcagno è il piede in profondità nell'intersuola, offrendo una guida al piede che non chiede l'ausilio di altri supporti o costrizioni. L'active foot frame funziona come il sedile anatomico di un'auto da corsa, culla e protegge il piede. La suola ha una scalanatura strategica dell'avampiede e offre maggior flessibilità durante lo stacco da terra, mentre la suola più esterna in gomma trasparente garantisce un aspetto pulito. Con un'atomaia invece abbiamo le alette di supporto anatomiche che consentono una calzata personalizzata, la linguetta asimmetrica garantisce una tenuta sicuramente più sicura. La linguetta presenta infatti scanature strategiche che garantiscono la traspirabilità. La nuova tomaia in mesh a struttura leggera offre traspirabilità e massime prestazioni. Con un'altezza al calcagno in millimetri 32 e un'altezza all'avampiede di 27 mm, il differenziale quindi diventa di soli 5 mm con un peso di soli 288 grammi per la scarpa da uomo e di soli 240 grammi per la scarpa da donna. È tutto da Runway Sport a Necattolo, venite a trovarci con tutta la nuova collezione Spring Summer 2020 di Oka One One, seguitici su runwaysport.it. Ricordatevi che spediamo in tutta Italia e in Europa. Ciao, a presto a tutti.